E' doveroso ricordare quanto fossero giovani. Trent'anni fa queste tre persone hanno avuto il coraggio di affrontare una inimmaginabile malvagità. Stefan Gold era uno dei più giovani comandanti del Mossad. David Koretz aveva festeggiato i 29 anni proprio durante la missione. Rachel Singer aveva solo 25 anni. E così per la prima volta sul campo. Bene, molto bene. Benvenuta in missione. Il loro mandato era quello di catturare il chirurgo di Birkenau. Un uomo i cui sadici esperimenti avevano sfigurato o ucciso migliaia di persone. Sei molto coraggiosa. Non mi sento coraggiosa, sono terrorizzata. Riportatelo, B.V. No! Il mondo vedrà quel che lei ha fatto. Stai tremando. Io credo che sia tu ad avere paura, David. Paura del mostro. Boom! Ci hanno seguiti. Oddio! Siamo solo quattro a sapere che è successo qui. La verità deve rimanere in questa stanza. Comunque, trattinovi. E se potessimo tornare indietro? Sarebbe diverso. Non si può tornare indietro. Bisogna saldare il conto. E che vuol dire? Saldare il conto. Saldare il conto.